In Puglia, al mattino, nubi irregolari con locali acquazzoni. Nel pomeriggio, tempo uggioso con deboli piogge. In Basilicata, tempo uggioso con deboli piogge, eccetto il pomeriggio in montagna, caratterizzato da cieli grigi con scrosci di pioggia intermittenti. Migliora però già in serata con ampi rasserenamenti su Materano e Metapontino, seppur con ventilazione a tratti sostenuta. In Molise, al mattino sulle coste, poche nubi sfilacciate con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sul litorale, cielo nuvoloso con solo qualche raggio di sole. Nelle zone più alte, tempo uggioso con deboli piogge. Inizio di Barcelona